Perché molte donne non riescono a dimagrire nonostante la dieta, l'impegno, i sacrifici, le privazioni? Perché in tantissime riprendono i chili persi e spesso con gli interessi appena smettono di seguire una dieta rigida? Non sarebbe bello se ci fosse un'alternativa a qualcosa per dimagrire senza dieta e non riprendere più i chili persi? Sono Simona Vignali e da oltre 25 anni creo sistemi naturali per aumentare il benessere, la salute, la forma fisica, la bellezza. Ho guidato migliaia di persone a raggiungere il peso ideale e la forma fisica che desideravano. Sempre più donne mi scrivono che sono stanche della dieta, anzi solo sentire quella parola le fa ingrassare. Non ne possono più di fare sacrifici e sentirsi pure in colpa pensando di essere sbagliate. Per rispondere a tutte e spiegare che non è colpa loro ho creato un nuovissimo video training esclusivo dove rivelo perché le diete non funzionano più e cosa fare invece per ritrovare il peso ideale senza stress, senza frustrazione e privazioni ma con un approccio completamente nuovo mai svelato prima. Interessante vero? Anche tu puoi registrarti gratis e accedere subito al video training. Tutto quello che devi fare è cliccare sul link di questo video, qui sopra, qui di fianco, qui sotto, dove lo trovi. Non voglio anticiparti troppo ma se lotti con la fame nervosa e hai problemi con gli sgarri troverai delle chicche imperdibili. Se anche per te è arrivato il momento di dire basta alla dieta senza rinunciare a sentirti bene con te stessa e nel tuo corpo, anzi mentre migliori la tua salute aumenti l'energia, la motivazione, l'autostima, questo video training sarà il video più importante per te da vedere quest'anno. Clicca sul link e registrati subito, io ti aspetto nel video training naturalmente. Ciao da Simona Vignali